Come potete vedere qui a fianco a me c'è la nuova Junior, vettura svelata già qualche tempo fa ma oggi qui per noi la possiamo vedere in una sessione molto vis-à-vis, qui ce l'abbiamo a disposizione, ma sapete anche che voi potete avere la disposizione sul nostro sito drivekay.it dove potete scoprire qualche dettaglio in più e insomma vederla anche voi con calma, quindi andate a visitare il link in alto a destra oggi in descrizione drivekay.it Ma andiamo subito a vedere il design, un design che ha tanto heritage, sa tanto di Alfa Romeo ed è una cosa su cui ci contano tutti, tutti gli alfisti soprattutto per una vettura B-SUV del 2024 che punta al pubblico E dove lo troviamo questo heritage? Beh, iniziando sicuramente dalle linee di tensione sul cofano che assomigliano molto a quelle della Giulia, quelle della Stelvio, quelle a cui siamo abituati, così come la fanaleria ha una linea tipica di Alfa Romeo Alfa Romeo invece che introduce questo bel nuovo bicione, logo tipico di Alfa, cambia quindi lo scudetto con questo bicione, può essere scelto anche però con una scritta, un lettering più heritage in corsivo classico E quello dipende un po' dalla preferenza del cliente E parlando di quello che è la storia, l'heritage di Alfa Romeo, ovviamente una domanda che abbiamo dovuto fare è la posizione del portatarga Tipicamente la troviamo sul tre quarti, sulla metà del paraurti a lato Ci hanno spiegato purtroppo che per questioni di omologazione che entreranno poi in vigore questa cosa per il momento non si può fare Quindi per questo troviamo il portatarga in basso che è stato un argomento anche abbastanza di discussione devo dire tra gli appassionati Ma passiamo a una delle parti secondo me più interessanti, più esotiche che sono proprio i cerchi da venti Cerchi da venti che ricordano ovviamente nel design il quadrifoglio, l'emblema di Alfa Romeo, l'emblema della sportività del brand italiano E anche con una bella gommatura sufficientemente sportiva, un 225-40 appunto su raggio 20 è una gommatura che sicuramente avrà il suo da fare Abbiamo anche una pinza 4 pompanti, molto interessante e ricorda tantissimo appunto l'heritage di Alfa Romeo Che è un po' il punto chiave di questo video Heritage che ritroviamo anche in una piccola chicca, appunto questo tappo in alluminio che copre la presa di ricarica E' un po' molto interessante il fatto che sia comunque un pezzo di alluminio, sia molto carino Lo possiamo inserire all'interno della portiera posteriore per non perderlo o per non farcelo anche rubare banalmente Ma passiamo appunto al posteriore Posteriori che si allontana molto invece da quello che è il design a cui siamo abituati per quanto riguarda il brand italiano Abbiamo molto bella la scritta in lettering nero Che ci nasconde questa sezione molto aerodinamica, coda un po' tronca Che devo dire è molto particolare, nonostante non sia abituale per il design del brand E il portellone elettroattuato ci nasconde un vano da 400 litri, quindi per la categoria molto grande e modulare Quindi possiamo decidere di alzare e abbassare la piattaforma del bagagliaio per avere un pochettino più spazio Oppure ridurre il gradino per l'inserimento dei nostri oggetti Per quanto riguarda gli interni non ci basterebbe un video solo dedicato per riuscire a parlarne Tante chicche, materiali italianissimi come l'Alcantara all'interno I sedili sabelt dedicati che sono secondo me bellissimi Elettrico per il guidatore, invece regolazione manuale per il passeggero L'infotainment che è delle stesse dimensioni tra l'altro del cruscotto 10,2 pollici Che funzionano molto bene, sono molto intuitivi, ma richiamano un po' quelli del gruppo Stellantis Così come la plancia, la pulsantiera all'interno è quella di Stellantis che abbiamo già visto su altre vetture Il volante a tre razze invece molto tipico di Alfa Romeo con i dettagli in Alcantara E questa visione del cruscotto tipica che abbiamo visto su Giulia, 159, 147, insomma la conosciamo benissimo Il feeling è molto buono, ci si sente davvero a casa, ci si sente all'interno di una vettura che si possiede già da tanto tempo E i sedili sono molto belli, comodi ma ben contenitivi Sabelt sappiamo è un'eccellenza del nostro paese ed effettivamente si conferma tale Mi è piaciuto molto il dettaglio delle bocchette del climatizzatore Tonde, come tradizionale Alfa Romeo vuole, con il bicione retroilluminato Qui purtroppo oggi non riusciamo a farvelo vedere ma vi garantisco che è così Ma non voglio rubarvi altro tempo, adesso abbiamo qui per noi uno specialista di Alfa Romeo Al quale possiamo fare due domande, quindi andiamo subito a sentirlo Siamo qui con Daniel Guzfame, volevo chiederti, è un Alfa Romeo nel 2024 Cos'è che mantiene di heritage che sappiamo agli alfisti piace particolarmente? Dov'è che ritroviamo l'heritage in questa junior? Eh sì, abbiamo voluto fare una macchina che fosse da un lato di rottura Ma che tenesse anche delle caratteristiche che sono quelle tipiche Alfa Alfa è rosso, Italia, sportività Rosso che ovviamente non vuol dire solo il rosso Tra l'altro è un rosso sviluppato appositamente per la junior E che prende da quelli che sono i pigmenti che usavamo all'epoca Ma è anche passione E quindi è tutto il pacchetto che si connubia perfettamente con sportività Quindi il track allargato, le ruote da venti con il cloverleaf, il quadrifoglio Ovviamente l'aggressività, l'assetto ribassato Un Torsen anteriore, quindi anche quello con dei richiami rispetto al passato a livello di soluzioni tecniche E naturalmente tutto il package, quindi a livello di design Il 3 più 3 che è diciamo a livello di proiettore anteriore Ovviamente interpretato in maniera nuova ma rappresenta un pochino l'emblema di Alfa Romeo Con lo scudetto che si evolve anche in questo caso Ma che rappresenta il cuore e il centro E' estremamente ben visibile anche da lontano su una vettura di questo tipo E poi arriviamo alla coda, coda tronca Quindi per definizione Alfa Romeo se vogliamo E che coniuga molto bene la funzionalità e l'estetica L'estetica in maniera diciamo molto evidente La funzionalità sia da un punto di vista aerodinamico Perché permette un taglio del flusso molto determinato E anche questo è molto Alfa Romeo perché Alfa Romeo è bellezza necessaria Nulla emesso per caso E anche il volume del baule Perché ha i 400 litri che sulla categoria è un'enormità Il meglio che c'è Grazie a questo tipo di soluzione che abbiamo definito con il design Questo diciamo a livello esterno Poi nel momento in cui uno entra in macchina Si sente al 100% su un'Alfa Quindi la posizione di guida naturalmente La radio che è inclinata quasi ostentatamente verso il guidatore La console molto ergonomica E quindi tutti i comandi che sono esattamente dove te li aspetti Quindi è una macchina che nel momento in cui entri ci vuoi stare dentro Non ti spinge fuori, non ti accoglie, ti coccola È un po' un guanto che uno calza d'inverno e che ti invita a rimanere Tanto feeling di casa Alfa Quindi un tanto rapporto col passato Così come discusso tantissimo il nome Junior Una domanda che ti avevano fatto Ma questa non l'avevo sentita Devo dire Come avete affrontato questa scelta arrivata un po' come un fulminaciel sereno in casa Alfa? Come sempre, con la giusta leggerezza, la giusta ironia anche C'è stata una presa di posizione da parte del ministro che abbiamo seguito Ci sono tematiche molto più rilevanti a livello Stato, a livello Compagnia Stellantis Di cui facciamo parte in maniera fiera e orgogliosa rispetto a quelli che sono appunto i rapporti con il governo Non volevamo assolutamente entrare in questo tipo di polemica Quindi Junior è un nome fantastico che rappresenta Alfa Romeo al 100% Era una delle nostre scelte Di conseguenza viene molto bene Parla con l'heritage, parla con il nuovo che avanza È una parola latina Speriamo che gli antichi romani non abbiano niente da ridire E soprattutto rappresenta nella storia di Alfa Romeo un po' quello che era la via d'ingresso Perché Junior rappresentava la porta d'ingresso delle varie versioni di ciascuna vettura In questo caso rappresenta effettivamente la porta d'ingresso ad Alfa Romeo Quindi a tutti i clienti nuovi, vecchi, passati, presenti e futuri Che ovviamente saremo ben lieti di accogliere su Junior e sul resto della gamma Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo a dedicarci un po' del tuo tempo E a questo punto aspettiamo di vederla su strada e di provarla Naturalmente, ti accoglierò volentieri Abbiamo le prove che iniziano tra poco E quindi benvenuti Aspettiamo con ansia Grazie mille Questa era l'Alfa Romeo Junior L'abbiamo vista al volo in anteprima Rimarrà poi da scoprire anche gli altri allestimenti che usciranno più avanti nel 2024 In due motorizzazioni Quindi abbiamo un ibrido benzina 1.2 tre cilindri da 136 cavalli E poi due motorizzazioni invece elettriche Con anche la possibilità di trazione anteriore o integrale Che vedremo poi appunto Quella che avevamo oggi qui davanti noi era una delle versioni elettriche Che partiranno da poco sopra i 40.000 euro Ma io vi ringrazio per averci seguito fino a qua Vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre pubblicazioni E noi ci vediamo al prossimo video